Il 2023 è un anno di grandi cambiamenti per noi, per l'Italcementi in particolare, un brand storico in Italia cambierà il nome, si chiamerà Hidable Materials e quindi sarà un cambiamento pieno di prospettive e ci auguriamo di grandi successi. Questo cambio brand per l'azienda significa entrare a far parte di un gruppo globale in tutto il mondo, pensate sono 60 paesi, siamo tra i più importanti gruppi di costruzione, facciamo tantissimi prodotti, la cosa più importante è dire che Hidable Materials lascia un po' la radice cemento per allargare la gamba prodotti, accettare nuove sfide verso il futuro, un futuro sostenibile e digitale, che vuol dire saper affrontare il mondo delle future generazioni, quindi con prodotti nuovi, con grande rispetto per l'ambiente e in particolare con la digitalizzazione su cui stiamo investendo molto, sui servizi. La direzione commerciale avrà un ruolo importante in particolare in Italia dove il nostro brand è molto forte, rassicuro voi che siete tutti rivenditori e che rimarrà un sacco in cui ci sarà la scritta di talcementi, è un sacco similare quindi la qualità sarà sempre la stessa, staremo sempre vicini a voi perché voi in particolare dovete poi rivendere il nostro prodotto adatte, sperando ad avere il vostro spazio per noi e di continuare questa storia di successo. Siamo consapevoli che non è facile per una rivendita trasferire al mercato un cambio di brand, per questo motivo abbiamo tantissime iniziative, una un po' particolare che è nuova, che faremo una giornata assieme a voi, in rivendita assieme, per chi parteciperà sarà molto bello, ci auguriamo, poi c'è tanta comunicazione, tanti gadget che mettiamo in campo, insomma saranno giornate per riprendere un po' il nostro stare assieme, il nostro fare partnership assieme.